Oh, i dovrebbero essere da ste parti, eh? Dov'è che si saranno nascosti? Lo sanno solo loro. Mi hanno detto che erano qua a seminare soia. Ma io non glielo dico. Se mi vuol trovarmi, trovo. Sento qualcuno preparare. Barracchino! C'è nessuno in questa azienda che lavora? Sono l'unico che lavora in questa azienda. Gabriele! E? Eh, indossetto! Tià. Deviazione qui. Dove sei? Eccomi, eccomi, eccomi dove! Guarda, qui c'è? Dopo gli alberi. Dopo gli alberi. Io prima! Qui è tutto alberi. allora il primo albero che trovi io sono lì su la tua sinistra aspetta che mi tolgo dalla strada qua c'hai gasolio urea si 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 oh oh Gabriele arriva hai anche il mio stipendio stipendio eh si eh vuoi che lavori nero sgancio il cassone qui che gli faccio posto hai anche i semi? eh no semi non mi avete mica detto di portare semi che ti abbiamo detto di portare semi? sei semo che ti abbiamo detto di portare semi? eh 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 vieni Gabriele vieni che ti faccio pieno vieni io arriverò a malapena in fondo mi vogliono dei semi vabbè che sono tutti semi eh sta calmo un attimo ti hai su il barchino devi fare anche adiblu? sì sì un po' sì fai il giro allora Gabriele che è da questa la cisterna della di blu ti ho tolto il trattore apposta così hai sposto da fare manovra sposto? digli per baracchino Agri che venga qua a rifornire se vuole boh tocca che ci arrivo lì col tubo aspetta hai Agri vieni eh arrivo ma io vengo lì lavorando non so mica bisogno di perdere tempo buono teoria sei a posto ma a te Gabri ti servono semi anche a te? sì ho 32 litri urco allora aspetta qua Agri che venga a rifornire io vado su dalla lolita a prendere tre o quattro sacchi di semi dai va bene adesso mi posso sacconi mica sacchi sì sacconi sacconi rompi palle tanto ne ha su aspetti 30 secondi sono già lì ha detto ha detto che bisogna usare i suoi di semi che arrivano sono certificati sono un grandinaccio eh c'è lì c'è lì da che parte è che si va su a casa della lolita da qualche parte basta che non presti i campi eh Agri su che ti sei perso allora se non ricordo male bisogna bisognerebbe girare su qui da queste parti comunque abbiamo bisogna qua nel nel culo della combinata davanti ci sarebbe da metterci su i pesi perché vanno bene i pesi da fiat perché qui sennò guarda guarda che cresce anche il campo d'erba qua la situazione inizia ad essere un po' grigio sai vieni che ti ti riempo che hai detto così esatto allora è meglio che ne compra un po' di semi qua perché non ne ha mica tanti ma si aspetta eh fermati grazie ho fatto tutto vai l'altra parte no no ho già fatto tutto ho già fatto tutto tu vuoi era lungo l'ha spinto dentro quel sacco che ha detto così eh capo eh cosa ho avuto ho bisogno di un peso ancora ne hai comprati sei per quel trattore di pesi ne hai mi ha detto il ponce che è stanco di portarti pesi eh ma se lui non mi porta quello che voglio non è proprio mio porto sempre prova questo prova questo prova questo ma hai provato che ha piattuto il trattore appunto bravo gabriele no no gabriele forse è il trattore che lo fa non è il peso no il trattore va il mio non ti impegna cos'hai fatto le ore piccole ieri che a luna vabbè che abbiamo pranzato sai sei in piena digestione a luna e mezza sbagli ma si calcolo che ti dico solo che c'ho 15 gradi capito c'ho un caldo arrivo 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 con i siemi intanto hanno presi tre sacconi ce n'è lì ancora un saccone ma aspetta che li alzo perché non vedo dove vado uh la curva e ce n'è lì ancora un sacco ma non non arrivo a prenderlo perché l'ha spinto dentro troppo e batto con con la protezione delle forche sul sullo scaffale sopra tu vieni in campagna dove sono io perché io perdere tempo non ne ho di tempo quindi io sto già risseminando arrivo 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 sto arrivando con con il nuovo mezzo con il nuovo mezzo che ha comprato qui la tua amata il Faresin nuovo nuovo mezzo ha preso sto Faresin un telescopico ha su due ore di vita senti che bene suona che è un piacere il motore di sto fare metto le quattro frecce che sono dei rampeggianti che sono sulla strada dov'è che sei quel trattorazzo il campo 21 eh ho ben capito sono andata a qualche parte o in cima o in cima o in cima altra c'è la stradina per entrare al campo 21 qua e fai prima Gabriele che lui è senza senza ah lui è senza senza eh sì 32 litri ben sono rimasti dirlo ma te l'ha detto lui io ti ho detto che ne ho 120 litri l'avrei detto quando ero sceso dal trattore e stavo andando a piedi a prendere il farisin e non è che ho il baracchino incorporato nell'orecchio io allora eccomi Gabriele eccomi eccomi e magari con la tramoggia piena davanti vado meglio a posto Gabriele si a posto grazie pieno a posto pieno pieno la tramoggia davanti ma la tramoggia davanti non è per il fertilizzante te agri no dov'è che hai la stradina per entrare nel campo qua vieni 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 qua avanti vieni avanti vieni avanti segui la strada segui la strada segui la strada guarda guarda che ti vedo ti vedo ti vedo allora c'è qua guarda che servizio sta fermo sta fermo guarda lì doppio sacco posto adesso sto più piantando allora riporto su il faresino a casa tanto ne avete abbastanza stai qua stai qua che quando non c'ho quasi più roba so io così mi dai un po' di peso ne avrei ne avrai bene abbastanza di quei simili per finire sto campo benedetto dai dai datevi guardate di mettere un po' il turbo perché qui il meteo da pioggia non vorrei mai che comincia a piovere che rimanete impiantati nei campi che dopo mi tocca venire a recuperarvi io se piove vado avanti dai che io adesso vado riporto i semi ai sud della lolita mi riprendo il landini vengo giù mi riattacco il caporicci vado a casa che organizzo altri lavori perché qui adesso beh oggi ormai finite qui la soia e dopo ritornate giù tutto che dopo dobbiamo seminare la soia giù da noi entro la fine di aprile e se non piove dici che andiamo direttamente nel nostro tanto qua io faccio questo ormai sta decada di aprile è passata vediamo per prossimi giorni dai che ho sentito mi ha mandato un messaggio che dovrebbe rientrare anche dall'ultima vacanza pif e quindi con le prossime lavorazioni ci sarà anche lui ma se si allora qua allora gli rimettiamo a posto i semi gli diamo un po' così quelli che avanzano gli rifreghiamo vero? di semi no no sti semi chi se li può tenere non so abbiamo qualche officina che va sul posto? ahia no officina che va sul posto no perché cos'hai? hai il trattore che non va? è un po' guarda di finire guarda di finire lì e dopo quando intanto finito quel campo rientrate a casa e facciamo tutta la manutenzione che volete a casa faccio le manutenzioni le abbiamo già pagate quando abbiamo comprato il trattore questo questo lo lasciamo qua riprendiamo il landini e via che andare eh se ha dei problemi vieni qua col caporezzi e poi io lo carichi sopra quello lì gli lascio il landini eh ui ti lascio il landini e io vado a casa con quel trattore lì e gli faccio la manutenzione tanto che arrivate no non hai capito se ha paura che non arriva a casa quel trattore lì ma vedi che arriva bene a casa dai che non è mica un po' non è mica un trattore elettrico a casa ci arriva sempre lo tiro no al limite ti aspetto lo carichiamo su caporicci se serve ma eh arriva bene a casa non ci sono problemi si si ci arrivo eh sono ho anch'io il landini qui che sono 3 o 4 giorni che continuo a lampeggiare la spia che bisogna fare la manutenzione eh che sono passate le ore per la manutenzione bisogna cambiare i filtri tutta quella roba lì abbiamo da fare un pochino prima di abbiamo un po' di trattori da sistemare in sti giorni questo qua c'è già 60 ore e questo ne ha 386 questo mi è giovane bom beh che aggancio e mi tiro giù verso casa che comincio a fare la manutenzione al landini oh vediamo oh 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 portiamo il trattore qui alle rampe per fargli una manutenzione chi è che oh che è arrivato oh che è arrivato ah guarda che vite dura ciao pif oh che è ciao voilà arrivato sì sì sono arrivato sto un attimo facendo un po' di manutenzione al valtra qui sotto ah ok ok eh ho anch'io il landini qua che bisogna fargli il cambio dell'olio ok allora aspetta e i filtri e tutta quella roba lì ah tanto bidoni dell'olio qui ce ne sono finché se ne vuole qui ci sono i pezzi di ricambio sono tutti marchiati in new holland ma c'è dentro un misto c'è dentro roba da un'occhiata dopo ottimo ma quel valtra lì è finito a posto eh sì sì adesso bastava evitare l'ultima le vite dopo le vite è finito finisci che lo tiro giù e ti metto sul landini così poi ok aspetta così dopo guardo che cosa dobbiamo fare ho visto che c'è fuori un bel po' di casino qui di roba da mettere a posto eh intanto che i ragazzi finiscono ci sono su ci sono su Agri e Gabriele che sono su dalla Lolita che hanno praticamente finito di di seminargli soia e adesso dovrebbero per sera dovrebbero rientrare anche loro ci sarà da fare la manutenzione anche i loro trattori mi dice a Gabriele che il suo faceva dei brutti rumori la spia dell'olio accesa è un po' perfetto finito ecco lo senti lo senti lo Gabriele ce la fa quel trattore lì ce la fa ancora ancora ce la fa fuma un po' guarda che c'è qua pif che ha iniziato a fare manutenzioni perciò appena rientri gli facciamo la manutenzione anche quello lì allora io intanto qua c'è qua un bel po' di casino di roba da mettere a posto io il sistema un attimino casa qua perché c'è qua roba dappertutto mi carico i lantini allora ci sono qua piantatrici che si possono mettere via a parte che una piantatrice si potrebbe mantenere fuori che tanto la possiamo usare possiamo andare in tre a seminare la nostra soia che vabbè comunque io adesso lavo e metto a posto vi aspetto che così quando rientrate te Agri Agri c'è ben ancora lì vero Gabriele lo vedi nel campo lì a fianco ci sono sto facendo un corso ci sono datemi un paio di minuti che ho finito eh mettetevi mettetevi d'accordo con Gabriele che man mano che uno chi finisce per primo va a dare una mano all'altro così finite quei due campi e rientrate qui in azienda dai che vi aspettiamo che c'è c'è qua Piff e l'ho messo sotto a fare manutenzione ai trattori no Piffo a fare manutenzione si 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 va benissimo va benissimo dai che scendo a dare una lavata a sta piantatrice e metto il sistema un po' il piazzale che c'è qua un casino che basta la metà ok oh buongiorno 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 ben alzati a tutti buongiorno svegliate così presto stamattina buongiorno buongiorno chi è che c'è lì Agri c'è il bagno per fare i bisogni non serve che vai dietro ai cespugli no stavo dormendo stanotte mi avete chiuso fuori hai dormito nel cespuglio eh si mi avete chiuso fuori stanotte con le galline allora finito tutto su dalla lolita purtroppo finito tutto dalla patatara finito tutto da 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 Esteban abbiamo siamo alla grande adesso manca solo da finire la nostra roba vabbè adesso in aprile dobbiamo finire la soia abbiamo due campi di soia da piantare per noi ancora eh si abbiamo i nostri campi il 34 e il 38 da fare a soia te la sei sognata stanotte Vara Piff ieri sera dovrebbe aver fatto la manutenzione del tuo trattore anche Gabri esatto quindi dovremmo essere con le manutenzioni dovremmo essere a posto e alla grande adesso sono tutti operativi perfetto abbiamo sistemato messo in ordine pulito tutto ha fatto un bel lavoretto veramente dai e te Agri vieni per te ti prendo per un orecchio vieni con me vieni 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 con me vieni 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 l'altro giorno mi hai detto comprami un peso no non ti ho detto comprami un peso vara pesi vara uno due tre quattro questi sono qua sono qua che li ho trovati dopo ce ne saranno altri in giro per la farm non so dove di preciso ti taglio le orecchie tu hai detto che ti serviva un peso vara pesi vara pesi adesso lo picchio di tutte le misure di tutte le salse di tutti i colori ti ho detto che c'era da guardare nella seminatrice se c'erano già i suoi pesi ma ci sono già quindi siamo a posto se no attacca nessuno col fil di ferro davanti eh ci sto pensando e se no pensa troppo con la seminatrice questi pesi sono per un trattore che piace anche a te tra l'altro i colori i colori sono quelli esatto quindi la scelta è arrivata tu ma ascolta allora eh vara ce l'hai qua pronto eh caricato di caricarlo di semi e va va a seminare eh soia scegliti un campo o il 34 o il 30 o il 38 eh vieni avanti con due sacconi dai vieni avanti con due sacconi eh con due sacconi aspetta che bisogna eh pif prendi la merlo caricali un paio di secondi di e gabry vieni qua vieni prenditi il tuo il tuo valtra qui prendi il valtra e prendi il valtra per un caldo giù no basta di venire giù dritto e pif ha pulito tutto ha fatto tutto ha tirato tutto il bullone ha messo l'olio tutto a posto si tutto a posto si i filtri tutto a posto perfetto bravissimo bom e io faccio giù una scappata dalle pecore perché mi è arrivato un messaggio sul dalla mangiatoia che praticamente gli serve un po' di fieno che è scarsa la mangiatoia di fieno quindi vado giù un po' dalle pecorelle io guarda che macchina dopo vengo si impennarsi un po' meno sto trattore è sempre ma anche adesso guarda le ruote davanti non toccano le ruote davanti per aria devo trovare il sistema di riuscire a mettere un peso davanti qua in mezzo una piastra con davanti l'aggancio un altro sollevatore dopo non ci arriva dopo non ci arriva più il tubo qua però il tubo lo diamo ma eh prova chiedi al ponce se ha qualcosa di simile perché questi davanti non gli puoi attaccare niente eh no eh no buon dai organizzatevi dopo io vengo a trovarvi lì in campo che tanto il campo è giù vicino al il campio sono vicini al pecore tu pif quando hai finito fammi un fischio che ti trovo qualcosa da fare va bene allora c'erano i semi prendo su aspetta volevo prendere il cubottino ma prendo il Renault che almeno gli faccio fare un giro un giro anche al motore al Renault perché sennò poverino qua si inchiodano questo è il motore e vado giù alle pecorelle a dargli un po' di un paio di balloni di fieno perché così erano abbastanza secondo te 900 kg 900 kg perché hai troppo penso ben che se non sono abbastanza 900 kg è meglio che quella seminatrice la vendiamo perché vuol dire che pesa troppo ok prova attaccala sotto un altro trattore non so no no la seminatrice va bene sotto quel trattore non va sotto se ci sono si ho capito ma allora bisogna trovare il modo da questa bisogna trovare il modo di tenerlo per terra anche quel trattore perché c'è da comprare mi ha mandato il ponce mi ha detto che volendo mi ha mandato un messaggio mi ha detto che in questi giorni non sarà mai reperibile ma tu farà acqua porco cane acqua qua ha piovuto la notte passata ora bidoncini di latte qua latte di pecora questa 7500 euro io ho detto che l'ho preso cosa? porco cane no sto scattando mandi ma loro all'azienda di pesite no no ma uno io li diamo dentro hai detto che come no ma hai detto che sta aspetta mi ha detto che a me 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 arrivo sto caricando quasi 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 i semi i semi dai semi sto caricando sto caricando arrivo perché il sole è magna si ma anche te la notte la notte dormi non star lì a guardare le stelle nei cespugli e dopo la mattina vieni qua a sbadigliare no sinceramente mi sono trovato in me del cespuglio la notte la notte leoni la mattina esatto bravo dai che do giù sta erba e torno su e torno ok ancora sbadiglia sbadiglia non ti ribaltare più fai no no vado piano 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 si è ribaltato no piano 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 piano